Buongiorno, buon martedì 27 giugno. Bentrovati al nuovo appuntamento con Mattino 6, la quotidiana rassegna stampa che inizia subito andando a vedere le prime pagine dei quotidiani regionali. Iniziamo dal centro edizione di Pescara, notte dei saldi per aiutare il commercio, il titolo di apertura. Pescara sabato festa in centro, negozi aperti fino a tardi, concerti e fumetti per i bimbi. E poi a centro pagina si torna sulle elezioni amministrative, centro-sinistra processo ai perdenti e centro-destra chi c'è dietro la vittoria. E poi vedremo all'interno del giornale che cosa vuol dire questa fotonotizia. Di spalla all'interno l'economia, rapporto di Banca Italia, Abruzzo torna alla ripresa, bene lavoro e consumi. E poi l'ex fidanzata e il figlio di Silvana Picca non è sparito, parliamo di Lorenzo Berghelle. Poi provincia, 6 scuole rischiano di non riaprire. Vedete la foto del presidente della provincia Antonio Di Marco. Il caso a Bolognano, bagno nel fiume 68 i multati nel taglio basso, blitz della forestale tra i turisti domenicali alle gole dell'Orta. Per sfuggire al caldo torrido della costa in molti domenica hanno scelto le gole dell'Orta nei pressi della cisterna di Bolognano e del torrente Cusano tra Roccamorici e Abbateggio, ma almeno 68 tra quelli che hanno ceduto alla tentazione di bagnarsi nel fiume sono stati multati di 300 euro. Nel taglio alto, dopo i ballottaggi, Renzi assediato tira dritto, siamo 67 a 59 per noi, dice il segretario del Partito Democratico. E poi il giallo, il giovane sardo ucciso a Londra, ritrovato senza vita in casa. Questo per quanto riguarda i richiami dalle cronache nazionali. E poi passiamo alla prima pagina di Chieti, Lanciano Vasto. I soldi della truffa riciclati nei casinò. Chieti vendono la casa presa in affitto a ignari acquirenti, l'incasso in contigioco. Sei gli arresti da parte delle fiamme gialle. Questo è il titolo di apertura della pagina che riguarda la provincia di Chieti. E poi a Chieti, Senato, Ateneo, licenziate del vecchio. Ancora Asl, si dimette la Di Pietro, è indagata. Nel taglio basso, Ortona, dopo il voto, vinto per le idee nuove. Intervista al neosindaco Leo Castiglione, priorità all'ospedale. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere la prima di Teramo. Fabbrica in fiamme, salvi 60 operai. Rogo alla Richetti, nella zona industriale di Sant'Atto a Teramo. Sfiorata la tragedia. Questa è la notizia dell'incendio di ieri sera. Possiamo anche vedere delle immagini relative proprio al rogo nella fabbrica di Sant'Atto. Vedete le fiamme, il denso fumo che si è elevato in serata, visibile anche a grande distanza. Come abbiamo letto dal giornale, è stata sfiorata la tragedia per questo stabilimento industriale. Possiamo rientrare in studio sul nostro giornale. Continuiamo la lettura della prima pagina di Teramo del Centro. Andiamo a Giulianova. Mastro Pietro, concessi i domiciliari. E poi viabilità, strade franate, aperti 80 cantieri. Nel taglio basso, clamoroso errore burocratico. È vivo ma per lo Stato è morto. Sessantenne di Campli lo scopre chiedendo una ricetta. che il medico però non può fare perché risulta deceduto. Ancora Martinsicuro, Vagnoni. Iniziamo dai lavori più urgenti per quanto riguarda il nuovo sindaco di Martinsicuro. Andiamo ad aprire anche la prima pagina di L'Aquila Avezzano sul Mona. Biondi e De Angelis, i segreti del trionfo. Meloni all'Aquila brinda con il nuovo sindaco Avezzano. caos per le serrature cambiate a Palazzo di Città. Questo è il titolo di apertura. Scendiamo di spalla le altre notizie. L'Aquila cede il soffitto nel cantiere. Salvi due operai e ancora a Campotosto. I residenti tutto fermo dopo il sisma nel taglio basso. Castel di ieri, cartelli contro Vescovo e Prete. I fedeli contestano il cambio di data della festa patronale a Villa Vallelonga. Ecco le regole da seguire se si incontra un orso. Lasciamo il quotidiano il centro. Cambiamo testata. Adesso apriamo la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. È un caso nazionale la rivincita dell'Aquila. Il titolo di apertura è dietro la vittoria di Pierluigi Biondi. L'implosione del Partito Democratico e la gestione del dopo sisma a Vezzano. Intanto De Angelis senza maggioranza in consiglio. Leggiamo ancora l'analisi. La schizofrenia elettorale degli Aquilani. Scrive Angelo De Nicola. Mentre Saverio Chiuto dice La destra sogna il ribaltone anche in regione. Questa è la prospettiva dopo il voto amministrativo. Vediamo proprio una infografica che riassume i quattro ballottaggi di domenica. L'Aquila, Pierluigi Biondi, vittorioso su Americo Di Benedetto, candidato del centrosinistra, con 16.410 voti, il 53,5% a fronte del 46,4% di Benedetto. Ad Avezzano, Gabriele De Angelis con il 53,8%. Scalza, il sindaco uscente Giovanni Di Pangrazio, fermo al 46,1%. Ad Ortona, Leo Castiglione con il 52,2%. Batte, Giorgio Marcheggiano, 47,8%. Entrambi candidati di liste civiche fuori ad Ortona, in partiti tradizionali dal ballottaggio. Martinsicuro, Massimo Vagnoni con il 55,7%. Batte, Paolo Camaioni, 44,3%. Continuiamo a centropagina. Cambiamo argomento. Maxi multe per la gita nel parco. Ben 68 escursionisti sorpresi a fare il bagno in torrenti vietati. Abbiamo visto anche in precedenza sul quotidiano il centro. Montesilvano, semaforo killer, doppie sanzioni. In 40 si sono presentate all'ufficio contravenzioni dei vigili urbani di Montesilvano. Donne in rivolta per aver scoperto la beffa dei doppi verbali per le multe fatte con la telecamera al semaforo killer di via Adige. Nel taglio basso, Chieti sei arresti, soldi della truffa ripuliti al casino, vendono per 400 mila euro una casa che non è loro, poi ripuliscono nei casino i soldi della truffa. La guardia di finanza di Chieti ha sgominato un'organizzazione criminale e ha arrestato sei persone per riciclaggio, autoriciclaggio, truffa, sostituzione di persona, falsità materiale, falsità ideologica e false attestazioni. Dieci in totale sono gli indagati. Ancora da Giulianova, altra notizia di cronaca giudiziaria, l'inchiesta Castrum, la Mastropietro va ai domiciliari. La principale accusata dell'inchiesta sugli appalti al comune di Giulianova, dopo 33 giorni in carcere, è stata trasferita agli arresti domiciliari. Sarà controllata con il braccialetto elettronico. La decisione, che sostanzialmente aveva destato qualche sorpresa, considerato il destino cui era andato incontro, analoga richiesta da parte degli altri arrestati, è stata possibile perché sono scaduti i termini per le esigenze cautelari legate al rischio di inquinamento delle prove. Nel taglio alto, Pescara sabato prossimo, la notte bianca per l'avvio dei saldi estivi, la balena blu, i blue whale, sono dieci casi sospetti su cui indagano IPM minorili e poi il sottosegretario Gozzi alla Università d'Annunzio, scommessa dell'agroalimentare tra gli impegni del nuovo rettore. Anche corsi d'inglese per studenti stranieri, tra gli obiettivi annunciati ieri da Sergio Caputti durante la visita a Chieti dell'esponente di governo. Continuiamo la lettura delle prime pagine regionali, passiamo adesso alla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Tenta di strangolare la moglie, il titolo di apertura, altra violenza sulle donne nel Teramano, i carabinieri arrestano un 33enne padre di famiglia. Poi a centropagina possiamo tornare ancora a vedere le immagini, inferno all'ex Magus, Sant'Atto, incendio distrugge lo stabilimento della Richetti. Queste sono immagini proprio girate nella notte e ieri quando è scoppiato l'incendio, girate con un cellulare ovviamente che mostrano appunto la portata di questo rogo, che è richiamato anche sulle prime pagine dei quotidiani. Continuiamo con la lettura della città. Nel taglio alto allarme igienico e sanitario a Teramo, chiudete la villa comunale, è invasa da ratti giganti. E poi Mazzetta Giulianova scarcerata alla dirigente Mastropietro. Di spalla la crisi al comune di Teramo, il vento della politica risoffia in poppa al sindaco Brucchi. Emergenza caldo, rubinette a secco e blackout lungo la costa. Ancora la cronaca, violenza sulle donne, denunciato l'aggressore di Corso San Giorgio. Polemiche a Colonia Spiaggia, a Rosetto degli Abruzzi, recchiuti, danneggia i bagnatori. Polemica per il ripascimento. Ancora, sempre nel taglio basso, Atri, Ovidio, gli arrosticini e la grandezza dell'Abruzzo, secondo il comico Cirilli. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso, come di consueto, andiamo ad aprire lo spazio dedicato al nazionale, andando a vedere i principali titoli dei quotidiani italiani. Corriere della Sera apre con il voto e con l'analisi nel dopo elezioni. Dati del voto, polemica su Renzi. Salvini, esportiamo a livello nazionale il modello locale. No di Berlusconi, che dice, ora serve una coalizione moderata. L'ex premier, noi avanti. Per quanto riguarda Renzi, le 5 stelle dicono caporetto dei democratici. Nei ballottaggi il centro-sinistra. Perde 30 sindaci nel computo totale. E poi, a centro pagina, prima vittoria di Trump alla Corte sul bando ai migranti musulmani. Giudici tra 72 euro e tornerà parzialmente in vigore la decisione del Presidente degli Stati Uniti. Continuiamo con la Repubblica. A titolo ancora dedicato all'elezione, PD Renzi è sotto attacco. Il segretario, niente aperture a sinistra, come chiede la minoranza del partito. Veltroni, ex segretario del PD, Matteo Cambipasso. Il partito non guarda ai deboli. Polemiche anche a destra. Berlusconi chiede una coalizione moderata ai suoi alleati. Gelo con Salvini, Meloni dice, basta inciuci. A centro pagina il concerto esagerato di Vascopoli, Modena. Un sabato per 220 mila persone, mai tanti paganti. Le parole per capire una star. Il maxiconcerto di Vasco. Continuiamo con la stampa. Il quotidiano torinese. Centrodestra vittoria con i voti dei 5 stelle. Nei ballottaggi, Forza Italia e Lega hanno conquistato molti elettori grillini. Ma tra Berlusconi e Salvini sono già scintille. Renzi intanto dice, prevale l'antisistema. Anziché rincorrere Pisapia, devo tornare a fare Renzi. Questa è la dichiarazione riportata dalla stampa. Poi c'è un approfondimento a centro pagina in questa fotonotizia. La seconda vita del carbone. Boom di estrazione India-Cine. Stati Uniti responsabili della crescita record. Poi il salvataggio delle banche. Draghi difende l'Italia. Intesa, ma se cambia il decreto, l'accordo può ancora saltare. Intanto il presidente della BCE, la Germania, ha speso di più. Richiamando appunto il salvataggio di alcune banche tedesche. Andiamo sul fatto quotidiano. Comunali, ma che trionfo di Berlusconi? Vincono anti Renzi e astenuti. L'ex premier twitta che va tutto bene. 67 città al PD. 59 al centro-destra. Il grande giurista, il funerale laico. Presidente, Presidente. L'ultimo saluto a Stefano Rodotane. Il taglio alto, il decreto banche e tutto una deroga. Aboliti i codici. Il salva Venete, il testo rischia. Padoan dice fatto tutto nelle regole. I costi occultati. Un contratto da 17 miliardi. Chiuso di notte. Andiamo sul messaggero adesso. Renzi sott'accusa. Meglio Soli. Processo nel PD dopo la sconfitta. Il segretario dice no alle coalizioni. Il modello Pisa-Pia è perdente. Berlusconi agli alleati. Vinciamo se restiamo moderati. Salvini invece pronto a guidare la coalizione. Chiede lo stop agli inciuci. L'analisi dei flussi. Boom di voti. Forza Italia-Lega con l'astist Grillino. Sindaci Dem dimezzati. L'intervista Tajani. Vince Silvio. No indispensabili per il carroce. C'è poi il vertice al Viminale. Emergenza migranti. Raggi da Minniti. Accordo per l'ospitalità in provincia. A centro pagina nella fotonotizia. Trump primo sì al bando antimusulmani. Corte suprema. Parziale via libera. Contro chi non ha legami negli Stati Uniti. Tornando invece in Italia. Equitalia-Entrate. Fusione in bilico. Dubbi dei giudici. Stop del Consiglio di Stato. Non convince il trasferimento senza concorso dei dipendenti. E poi per le banche venete intesa salta l'accordo se cambia il contratto. Andiamo a vedere anche il manifesto. Titolo come sempre particolare da parte del quotidiano comunista. L'isola del Giglio. Con la foto di un Matteo Renzi così abbastanza malinconico. Il Giglio magico di Renzi si infrange sugli scogli delle sue stesse rottamazioni. La sconfitta nelle amministrative è netta e alla fine anche lui la ammette. per preparare in solitari il rilancio del partito autosufficiente perché con il centro-sinistra si perde. Tanti saluti a Pisapia. Continuiamo con il quotidiano Il Tempo. Anche qui titolo particolare. Ricomincio da tre. Il centro-destra unito dura poco. E giallite tra il Cavaliere Salvini e Giorgia Meloni. Sicuri che sia il caso di fare un regalo così a PD e Grillini. Chiede il giornale. Poi oggi il trentasettesimo anniversario alle dieci bugie che vi diranno sul caso Ustica. Continuiamo con il giornale. Proseguiamo nella lettura dei quotidiani di area di centro-destra. Renzi perde pure la testa dopo le elezioni. Leader Dem si inventa un trionfo inesistente e la fronda lo fa a pezzi. Berlusconi avvisa Salvini intanto. Ora coalizione moderata. Poi riaperto il dialogo sulla legge elettorale con la foto di Silvio Berlusconi. I nervi saldi delle Cavaliere rilanciano il Tedeskellum. Proseguiamo sul libero. I guai del PD e le nebbie del centro-destra. Finita la festa è subito caos. A 24 ore dal trionfo di Forza Italia e Lega già i due partiti bisticciano. Salvini chiede le dimissioni del governo e il maggioritario. Berlusconi tutto l'opposto. Renzi è nel pallone e il suo partito gli imputa la sconfitta e lui non sa se guardare a sinistra, a destra o al centro. Questa è la lettura del quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Poi la foto di Renzi. Matteo è il grande odiato ma perché i Dem non sopportano il loro segretario. I compagni godono come pazzi ogni sconfitta del Fiorentino ma non hanno il coraggio né la forza per farne il caprone espiatorio e rimpiazzarlo. Andiamo sulla verità. Il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Le conseguenze del voto. Ecco che cosa farà Berlusconi e come pensa di salvarsi Renzi. Sotto il Cavaliere non voleva una vittoria sonante ma ora è più difficile sostenere l'alleanza con il PD. Così tiene le carte coperte in attesa di scegliere il Matteo Giusto. Qui si fa riferimento a Renzi e a Salvini e il rottamatore ci spera perché teme e prodi. Nella fotonotizia quest'uomo è la rovina del PD, le peggiori sconfitte da quando è segretario vengono ricapitolate in questa infografica. A centro pagina c'è l'Europa dietro il disastro delle banche. Le norme dell'Unione hanno stoppato per anni la soluzione. Azionista di Veneto banca. Minaccia il suicidio. Ora il dubbio. Scende in campo il fatto. Risponde il costituzionalista Sandro Stajano. Attacco agli avvocati. Vietategli di scioperare. Questo è il titolo di apertura del dubbio. Poi l'analisi del voto. Vince la destra, perde la sinistra ma si spaccano tutte e due. Berlusconi, alleanza moderata. Salvini, no grazie. La sinistra PD. In calza il segretario. Proseguiamo con il mattino di Napoli. Il voto che allontana le alleanze. La lettura del quotidiano. Il cavaliere lancia l'accordo con i moderati. Contrario l'asse lega Toti. Il leader PD. Pisapia non serve. Corriamo da soli. Nel centrodestra vittorioso. Elite. Berlusconi, Salvini. Renzi dopo la sconfitta. Stop alla sinistra. Poi centropagina. Domiciliari per Diele e polemica. Salerno polemica dopo la decisione del GIP. L'attore resta in cella solo perché manca il braccialetto elettronico. L'ira del papà della donna investita. Ancora Pompei si potrà galleggiare sui mosaici. Gli scavi. Passerella di vetro per attraversare la casa dell'orso ferito. Continuiamo con il secolo XIX. Modello Liguria. Sfida di Salvini. Il quotidiano genovese ovviamente pone attenzione a quanto accaduto nel capoluogo di regione. inizia la resa dei conti nel PD dopo la sconfitta di Genova. I flussi. Il centrodestra intercette i voti dei 5 Stelle. Messaggio a Berlusconi. No. Noi moderati. Maggioritario e poi elezioni. Renzi si assolve. Voto antisistema. Devo tornare a essere me stesso. La gazzetta del mezzogiorno. Il quotidiano pugliese. L'apertura riguarda anche qui le elezioni. Lite a sinistra e a destra. Renzi sottotiro. Il segretario PD contrattacca. Noi intese litigiose. Berlusconi frena le ambizioni di Salvini. Emiliano rilancia il modello Puglia per il centrosinistra. Taranto e Lecce sconfitti sotto shock. Dopo le amministrative alta tensione nei due poli per l'esito dei ballottaggi. Confermata l'onda azzurra in gran parte d'Italia. Il PD in crisi anche nelle regioni rosse e nelle tradizionali roccaforti. Come ad esempio Sesto San Giovanni che è passata di mano. Andiamo a vedere quest'altra notizia. Bari invia a sperimentare la rivoluzione antidiabete. Al Poli Clinico un sensore sottopelle. Per quanto riguarda la misurazione del glucosio nel sangue. Andiamo a vedere l'Arena. Il giornale di Verona. Anche qui un titolo sulle elezioni. Voto. Verona diventa un caso nazionale. La vittoria di un centrodestra moderato sui tavoli romani. Scintille, Silvio, Salvini e Meloni. Renzi dice ma non ho perso. Sboarina il mio primo atto sarà la commissione trasparenza. Dice il mio sindaco. Tosi intanto fa le valigie. Duro colpo. E Salemi lascia. Questo ovviamente è un titolo che riguarda anche il nazionale. Perché il voto di Verona avrà riflessi sicuramente sulla politica nazionale. Il Gazzettino e il Quotidiano del Nord-Est. Banche e le condizioni di intesa. Credito. Il piano prevede la chiusura di 600 filiali su 982. Il ricorso a 3.900 esuberi volontari. L'istituto. Se ci saranno problemi con il decreto. Salta tutto. Banca Italia intanto dice. Lo Stato può guadagnarci. Questo è il titolo di apertura sul salvataggio delle banche venete. Poi le elezioni. Salvini si incorona. Il centro-destra, il leader, sono io. Lasciamo i quotidiani generalisti. Adesso andiamo a vedere un approfondimento su invece i quotidiani di stampo economico finanziario. Partiamo dal Sole 24 ore. La Borsa promuove intesa Venete. In rialzo tutti i titoli bancari. Piazza Affari sale dello 0,81%. Boccia, il presidente di Confindustria, dice atto di coraggio del governo e di banca intesa. Draghi, il bail-in, non prevede tutti i casi. Gentiloni, dice intervento legittimo, non un regalo. Il governo punta a recuperare 9,9 miliardi. Banca Italia intanto sostiene che per lo Stato questa operazione può essere a costo zero. Nel focus del taglio alto, la scadenza del primo luglio, fusione entrata Equitalia, con partenza tutta in salita. Scendiamo nel taglio basso. Fondo italiano, la controfferta degli Stati Uniti, rilancio di Neuberger-Berman per superare le cordate di Tico Italmobiliare. C'è anche un osservatorio sulla politica. Comuni, Medi e Grandi, Forza Italia e Lega salgono da 40 a 52. Questo per quanto riguarda le elezioni. Andiamo su Milano Finanza. L'apertura ovviamente è dedicata al salvataggio delle banche Venete. Venete salve. Le banche volano. Fine del tunnel. Con Popolare Vicenza e Veneto Banca è stato messo in sicurezza tutto il sistema, scrive Milano Finanza. La soluzione innesca forti acquisti a Piazza Affari. Intesa San Paolo spicca con un 3,6% di incremento. Unicredit più 3,2%. Si impenna il valore delle obbligazioni senior dei due istituti del Nord-Est. Crolla quello dei bond subordinati. Questo per quanto riguarda il salvataggio delle Venete. Andiamo adesso a vedere il titolo di Italia Oggi. Accertamento di fiscali a perdere. Il 48% delle imposte accertate dalle entrate negli ultimi 5 anni non è stato né pagato né impugnato dai contribuenti. Incassati 370 milioni su 93 miliardi contestati. Ora andiamo a vedere i quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Lasciatemi parare il titolo di apertura sulla foto di Gigi Donnarumma. Donnarumma tra Italia, Spagna e il Milan. Gigi si concentra sulla semifinale europea ma tutto porta al rinnovo in rosso-nero. Stasera ore 21, diretta su Rai 1. La nostra Under 21 cerca l'impresa contro la favorita del torneo. Il portiere dice prima la Nazionale e Raiola sia all'incontro. Ora il diavolo ci crede davvero nel rinnovo del suo gioiellino. Poi Tavecchio. Certe cifre ai procuratori sono una offesa. Scendiamo nel taglio basso. Ancora Milan. Ide eccessioni. Il Milan punta su Calanoglu. L'Inter vende. Banega via. Il caso della Viola. Fiorentina in vendita. Della Valle. Chi vuole ora si faccia avanti dopo le critiche dei tifosi. La Fiorentina è stata così messa in vendita dai Della Valle. Il regalo di compleanno. Il bacio di Bianca a Max dopo la grande paura dell'incidente che ha subito il pilota. Nel taglio alto. Fette l'arrischio. Riga dritto in Austria. O salta un GP. Dopo quello che è accaduto a Bacu. L'incidente e la reazione con Hamilton. Il Corriere dello Sport. Colpo di scena. I Della Valle si fanno da parte. Fiorentini comprate la voi. Feriti dalla contestazione permanente. I proprietari mettono in venda il club. Rispettiamo la città. Pronti a lasciare. Nel taglio alto. Spagna Italia. Atto primo. Valle l'Europa. Bernardeschi e i Baby sognano la finale. Di Biagio lancia l'Under. Vogliamo fare l'impresa. Donna Rumma. Sono pronto al Milan. Penserò dopo l'Europeo. Nel taglio basso. Allegri sbarra la strada a Conte. Bonucci leader resterà alla Juve. Poi il Napoli è fatta per Onas. Ora Sarri aspetta Mario Rui. La MotoGP Valentino è già leggenda. Vince da vent'anni e sfida se stesso. Andiamo a vedere il titolo di Tutto Sport. Italia. Notte da furie. Semifinale. Europea Under 21 contro la Spagna. Stasera alle 21. Vedete la foto di Federico Chiesa. Nel taglio alto. Juve, Marotte, Conte che botte. Toro, Sirigu. Non vedo l'ora. Nel taglio basso. Milan. Caso Donnarumma. Sono troppe le uscite a vuoto. Fiorentina. Rabbia della Valle. Pronti a cedere la società. Dall'estero. Dalla Bolivia. La Germania. Quando i tifosi salvano i club. L'inchiesta. Ragazze nel pallone. Via. I pregiudizi praticanti in aumento. Formula 1 tra Vettel e Hamilton. Una rivalità ad alta temperatura. Ultimo titolo che andiamo a vedere è quello di Us. Perché ovviamente giochiamo contro la Spagna. Questa sera nella semifinale dell'Europea Under 21. Dunque andiamo a vedere anche cosa dicono gli spagnoli a proposito. Ottimismo nella Super Under 21 spagnola. Poi ci sono due dichiarazioni. Quella di Asensio. Diciamo Donnarumma. Si spera che Donnarumma non sia in giornata. Perché dicono gli spagnoli è un grande portiere. Poi Sebaglios. Questi azzurri hanno un nuovo stile. E sono migliori. E poi ci sono le parole proprio di Donnarumma. Non parlo del futuro. Fino a quando proseguirò nell'europeo. Questo è un po' il clima che si respira alla vigilia di questa partita. Di questa sfida. Tutta da seguire questa sera. Noi adesso ci fermiamo con la prima parte della rassegna stampa. Andiamo a vedere le previsioni del tempo con Meteo 6. Poi torniamo dopo il break pubblicitario per la seconda parte della nostra trasmissione. Trasmissione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie della nostra regione. E apriamo le pagine interne dei principali quotidiani abruzzesi. Il centro nella pagina di primo piano propone un approfondimento sul voto. Dunque un'analisi su quello che è accaduto domenica. Cincin centro-destra. Forzisti e alleati brindano. Ecco i voti della vittoria. In testa c'è Silvio Berlusconi ma ci hanno creduto anche Salvini e Meloni. Biondi all'Aquila e De Angelis ad Avezzano. Magnacca a San Salvo sono i sindaci simbolo. Mai mollare fino all'ultimo è l'elezione dei ballottaggi abruzzesi. E la lezione dei ballottaggi abruzzesi. Ora è il tempo dei festeggiamenti ma presto i nodi verranno al pettine. Processo al PD. Personalismi e veti. Così il centro-sinistra è andato in testa coda. All'Aquila di Benedetto perde 4.000 voti. Affonda. Avezzano è il sintomo del malessere in regione. Il governatore D'Alfonso politicamente dispiaciuto. Oltre che umanamente addolorato per quello che è accaduto. E ancora Pagano di Forza Italia. A Berlusconi decisivo all'Aquila ci ha messo la faccia. Così il coordinatore regionale azzurro. Effetto unità. Per la prima volta dopo 15 anni il centro-destra era unito. E un avviso di sfratto per il governo nazionale. C'è anche l'opinione di Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista. La sconfitta. Tutta colpa del renzismo. Così il segretario nazionale che segue la linea della sinistra. Che è ostile al segretario del Partito Democratico. In questo fallimento elettorale conta moltissimo il giudizio sul governo nazionale. Non ha vinto il centro-destra ma ha perso l'altra destra del Partito Democratico. Abbiamo ascoltato due stranci delle dichiarazioni di D'Alfonso e Pagano che andiamo ad ascoltare in questo servizio. Il PD esce sconfitto dalla tornata amministrativa in Abruzzo. Lo ammette in una nota anche il segretario regionale del Partito Marco Rapino che si dice amareggiato soprattutto per il risultato del capologo di Regione. La debacle di L'Aquila unita alla sconfitta di Avezzano infatti è il segnale più forte a livello della politica regionale. Segno, dice Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, che le politiche di D'Alfonso non sono gradite. Segnale inequivocabile del vento che soffia verso destra, continua Pagano, da raccogliere anche a livello nazionale. Il risultato dell'Aquila in modo particolare dà la misura di quanto evidentemente il centro-sinistra e il PD in modo particolare stiano vivendo una fase di gravissima crisi. È evidente che c'è disaffezione anche per le politiche regionali. Non è gradito evidentemente il Presidente della Regione D'Alfonso. È un segnale chiaro, inequivocabile, che in questo momento si dovrebbe tornare a rivotare anche a Pescara e in Regione Abruzzo e certamente per noi sarebbero momenti di gloria. Io sono sicuro che gli elettori dell'Aquila, di Avezzano e degli altri comuni dove si è tornato a votare hanno votato così perché rimpiangono i governi di centro-destra. Il Presidente D'Alfonso chiede al suo partito di riflettere sulla sconfitta, soprattutto su quella dell'Aquila dove dice ero convinto di vincere. Per D'Alfonso c'è bisogno di radicalità, un tema che sarà affrontato all'interno del PD. Sono dispiaciuto. Io ero convinto che vincevamo all'Aquila, ad Avezzano e devo dire che avevo anche ottimi giudizi riguardanti altri centri minori in Abruzzo. La sconfitta di l'Aquila e di Avezzano pongono un problema da affrontare e da risolvere. Ero convinto dalla qualità del candidato all'Aquila e ad Avezzano, del lavoro fatto da me apprezzato, della qualità delle liste e anche di un rapporto funzionante tra istituzioni e cittadinanza. La democrazia è fatta così. Ogni volta si ricomincia da zero e poi quando si va a contare bisogna essere all'altezza di vincere. Certo io scrivo nella mia rubrica come questi due risultati sono due sconfitte rispetto alle quali la classe dirigente dovrà rimettersi a zappettare, a ricreare un rapporto funzionante, una capacità di ascolto e di veduta e anche a trovare una radicalità capace di fronteggiare i problemi che i cittadini pongono. Continuiamo con la lettura dei giornali regionali, passiamo al messaggero, restiamo al capitolo dedicato alle elezioni amministrative 2017. L'Aquila, biondi già al lavoro, abituato a stare in trincea. Stamattina vertice sul caso Fontari, alto là al DG Asl, l'ospedale non si tocca. Di Benedetto su alcuni temi importanti gli ho proposto una collaborazione. Qui vedete il Brindisi ieri pomeriggio con Giorgio Ameloni, leader nazionale. La Meloni in centro, nessuno ci credeva che è soddisfazione. Matteo Salvini ha scritto ai dirigenti locali, questo è un messaggio per l'Italia. Nel taglio basso l'Iriz potrebbe fare il vice, frenata su Cavalieri. Ecco i 32 del Consiglio, forse oggi l'ufficialità confermata la ripartizione dei seggi, ipotizzata l'indomani del primo turno, dopo la proclamazione la prima seduta dovrà essere convocata entro 20 giorni. La ripartizione dei seggi è stata confermata, la maggioranza che fa capo a Biondi avrà 20 seggi, 7 a Forza Italia, 4 a Noi con Salvini, 4 a Fratelli d'Italia, 2 a Benvenuto presente, 2 all'Aquila Futura, 1 all'Udc. Confermata anche la ripartizione per l'opposizione, il PD al 18% al primo turno dovrà accontentarsi di 4 consiglieri, resta fuori dal Consiglio così come previsto il Movimento 5 Stelle che aveva candidato Fabrizio Righetti a Sindaco. Ha conquistato il seggio Carla Cimoroni, oggi potrebbe avvenire la convalida degli eletti. Il Sindaco avrà 10 giorni di tempo per indire il primo Consiglio Comunale che dovrà essere tenuto nei 10 giorni successivi. Continuiamo con l'Aquila. Dico che non ho sbagliato e anche Pietrucci ha perso. Di Benedetto, il centrosinistra sconfitto non lascia tranquillità futura a nessuno, non ho cambiato il mio modo di essere, alla fine siamo arrivati logori e stanchi. Così il candidato del centrosinistra analizza la sconfitta. I seggi ha una trazoppa evitata nel capologo per 230 voti. Nel taglio basso lo psicotramma DEM, personalismi e campagna soft sconfitta da incubo rapino, amareggiato, dobbiamo capire le ragioni, Pietrucci insieme a Merico e Pierluigi. Continuiamo con la pagina dedicata alle elezioni. Adesso saltiamo ad Avezzano. De Angelis sindaco ma è senza la maggioranza. Per la strana giurisprudenza che governa i ballottaggi col vincitore solo 9 consiglieri. L'assise è completata anche dalla presenza di Eligi e Casciere. E poi il giallo delle serrature cambiate, l'arrivo in comune dei Carabinieri, ma poi è arrivata la smentita, la vicenda nelle mani del segretario regionale. Nella mattinata di ieri non si riusciva ad entrare a Palazzo di Città. Nel taglio basso il grido della folla sotto il comune, fuori fuori Avezzano libera. Il consigliere regionale Gerosolimo precipitato da Sulmona è stata una vittoria del civismo. Continuiamo, andiamo ad Ortona. Ospedale stop al GPL, i miei primi obiettivi. Così Leo Castiglione, neosindaco di Ortona, annuncia il programma dei 100 giorni. Pulizia delle spiagge e cura del verde per restituire decoro alla nostra città. Sono i primi obiettivi del sindaco Ortona. Caso particolare perché tutti i principali partiti sono usciti dalla competizione al primo turno e si sono affrontate due coalizioni completamente civiche e alternative ai partiti tradizionali. E poi gli altri centri, Vagnoni e Martinsicuro. Ora c'è tanto da fare. Prime parole durante i festeggiamenti. I cittadini hanno capito la serietà delle nostre idee. Continuiamo con la lettura dei nostri giornali. Adesso riapriamo il centro. Andiamo a vedere la pagina Abruzzo. Lasciamo la politica e le elezioni. Rapporto Banca Italia. Abruzzo torna alla ripresa. Crescono lavoro e consumi. Segnali positivi dal dossier annuale sull'economia relativo al 2016 presentato dalla Banca Centrale. Traina, il manifatturiero dell'automotive, aumenta la spesa delle famiglie per beni e mutui per la casa. Massimiliano Marzano dice che migliorata la qualità del credito sono diminuiti i prestiti deteriorati anche se lo stock è ancora elevato dopo 8 anni di crisi. Alessandro Tosoni commenta in aumento le assunzioni a tempo determinato per l'affievolissi della decontribuzione sul costo del lavoro. Continuiamo su questa pagina. Regione, 870.000 contatori da sostituire, sempre per quanto riguarda l'economia, il piano di distribuzione per l'installazione dello nuovo smart meter disegnato dall'architetto De Lucchi. Poi, il fiore all'occhiello e il turismo tira la volata al settore dei servizi. Boom di presenze straniere, specialmente nelle aree protette, ma l'aeroporto di Pescara non decolla, passeggeri giù del 5,1%. Nel taglio basso, giunta regionale, tassa automobilistica, ok alle rate, luce verde alla delibera, ecco come e chi ha diritto al beneficio. Questa è la doppia pagina sulla economia del quotidiano Il Centro. Continuiamo sempre sul quotidiano Il Centro. Pescara, vertice in comune, i lavoratori della Soget, salvate i nostri posti. Allarme licenziamenti tra i 160 dipendenti per l'arrivo di una nuova società di riscossione delle tasse, ma Alessandrini congela il passaggio di consegne. Intanto in Consiglio Comunale ha approvato il vecchio debito, ma è rottura con Teodoro. Via libera dell'aula dopo 7 sedute alla delibera per il pagamento di 191 mila euro bloccata dal capogruppo. Il comune ha rischiato un salasso ancora più pesante. Sempre dalla pagina di Pescara, ma questa volta del messaggero. Andiamo a vedere qualche altra notizia. Notte dello shopping, sabato l'happening per l'inizio dei saldi. Il comune sostiene l'iniziativa delle associazioni commerciali, i Cuzzi patto con i negozianti per la trasparenza dei prezzi. L'ottalo spreco nel programma di un ricco weekend, anche i 20 anni di attività del Banco Alimentare. Andiamo a vedere insieme l'intervista all'assessore ai grandi eventi del comune di Pescara, Giacomo Cuzzi. Torna la notte dei saldi. Quest'anno si fa un parallelismo fra shopping e lotta allo spreco. Un appuntamento importante concordato con le associazioni di categoria, con i commercianti per lanciare la stagione dei saldi. Sabato 1 luglio con diversi intrattenimenti nelle aree pedonali della città e poi ci sarà questa bella iniziativa con il Banco Alimentare in Piazza della Rinascita e poi Comicon Convention che allestirà le vetrine dei negozi con i fumetti. Insomma, un'iniziativa importante per lanciare non solo la stagione con un calendario ricco di appuntamenti nella città di Pescara che proseguirà per tutta l'estate, ma anche per lanciare la stagione dei saldi che è un dato fondamentale per una città che vive di commercio come la nostra. Il focus sul centro commerciale naturale, insomma, è sempre lì l'argomento dare una mano a questi imprenditori che continuano a restare in città e a fare economia per Pescara? Sì, sicuramente. Questo è un aspetto del centro commerciale naturale. Noi abbiamo programmato e organizzato diverse iniziative nell'estate, quindi questa del notte dello shopping ci sarà la notte bianca dell'Adriatico il 22 luglio, il 12 agosto un'altra notte dello shopping che avrà più la forma di un evento diffuso e poi abbiamo messo delle risorse importanti, 50 mila euro, per la creazione del centro commerciale naturale che da un'unione di intenti diventerà una vera e propria realtà che concluderemo, insomma, entro la fine dell'estate per poi lanciarlo con diverse iniziative come il Lucid Artista per la fine dell'anno. Notizia che ritroviamo anche sul quotidiano Il Centro, via gli sconti estivi sabato la notte dei saldi per rilanciare il commercio. Negozi aperti fino a tardi, in piazza Salotto lo spettacolo di Demo Morselli, di fumetti nelle vetrine dei negozi e laboratori di disegno per i bambini e poi la festa del Banco Alimentare che festeggia i 20 anni di attività. Proseguiamo sul quotidiano Il Centro, sparito dopo la madre, Lorenzo se n'è andato, non è scomparso. La ex fidanzata del figlio di Silvana Pica parla dopo la denuncia presentata dal padre di lui ai carabinieri non si sentiva capito. E poi Bollino Rosso fino a giovedì, Pescara, fra le sette città più calde d'Italia. All'ospedale reparti sovraffollati ma nessuna emergenza, chirurgia 1, ferie e riposi bloccati per mancanza di personale. Le previsioni, vedete le temperature massime, almeno fino a venerdì si attestano attorno ai 30 gradi, poi una lieve diminuzione a partire da luglio. Andiamo avanti, sempre sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere un'altra notizia, provincia senza fondi, sei scuole a rischio chiusura a settembre. Di Marco elenca le criticità anche per le strade e chiede un decreto che salvi lente, venisse un parlamentare a governare questa provocazione lanciata dal presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco. E poi Marconi, aulo e provvisorie per 450 studenti, il caso Penne, la soluzione alternativa dopo ottobre in attesa di ristrutturare l'istituto danneggiato. Torniamo sul messaggero ora, restando sempre le notizie dall'area metropolitana, la beffa delle multe raddoppiate. La telecamera del semaforo di Viadige colpisce ancora a Montesilvano, verbali bis a chi non segnala ai vigili i dati del guidatore. Una quarantina di donne hanno preso d'assalto il comando, farci pagare altri 296 euro e un sopruso. Il comune ci spreme queste le proteste. Intanto oltre 11 mila euro in un mese, incassi record anche da prostitute e clienti per quanto riguarda le multe. Poi Maiella, tuffi vietati nel parco, nei guai decine di escursionisti. In 68 sono stati fotografati domenica. Nel taglio basso, fatale la caduta per l'escursionista, morto durante una gita a cavallo. Si tratta di Luigi De Angelis, 52enne romano, trovato in fin di vita domenica, pomeriggio, lungo il sentiero delle Signore, fra Rocca Caramanico e Passo San Leonardo. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Andiamo ad aprire la pagina dell'area metropolitana. Case e negozi senza luce per il caldo. A Montesilvano 500 utenze colpite da un guasto per le alte temperature e blackout da due a sei ore e disagi anche alle Naiadi. E poi Movida sicura tutto l'anno, bus navetta fino alle quattro, firmato l'accordo tra i comuni di Francavilla e Pescara per le corse notturne. Alla tua saranno versati 45 mila euro per i servizi aggiuntivi al via dal 7 luglio. Andiamo adesso sul messaggero e andiamo a vedere altre notizie dalla provincia di Chieti. Ateneo pronto a nuove sfide, così competitivi anche all'estero. Alla d'annunzio visita di Gozzi, il rettore Caputi annuncia corsi in inglese e agroalimentare. Andiamo a vedere proprio l'intervista al rettore dell'Università d'annunzio, curata da Paolo Renzetti. L'importante visita del sottosegretario Gozzi all'Università d'annunzio. Cosa avete chiesto? Cosa chiedete al Governo, ma soprattutto all'Europa? Guardi, il sottosegretario non è venuto da noi perché noi gli dobbiamo chiedere qualcosa. È l'inizio di una serie di scambi culturali che secondo me l'Università deve avere. È un inizio anche di rapporti tra le università, tra virgolette, periferiche e il Governo centrale. Quello che noi chiediamo, ripeto, è la semplificazione delle procedure. Noi siamo in grado di attrarre risorse esterne, ma abbiamo bisogno di semplificazione. Si parla di laureati, di nuovi laureati. L'Italia è il paese fanalino di coda in Europa per laureati. Anche sotto questo aspetto bisognerà probabilmente di aprire un nuovo corso. Ma no, fondamentalmente dobbiamo integrarci un po' di più con l'Europa, aprire dei corsi alternativi che interessino di più gli studenti e che soprattutto servano realmente a entrare sul mondo del lavoro in maniera più agevole. Tra gli obiettivi c'è anche quello di aprire dei corsi bilingue. Sì, sì, assolutamente. perché i nostri ragazzi sono proiettati ad andare all'estero anche per lavoro e questo è importante per loro, quindi imparare quello che imparano nei loro corsi di studi in inglese, ma è altrettanto importante per attrarre studenti dall'estero. Andiamo avanti con la nostra rassegna. Restiamo sempre all'Università d'Annunzio sul centro, nella pagina di Chieti, il Senato accademico licenziate del vecchio, il DG sospeso, ha rotto il vincolo fiduciario su quattro punti alla seduta anche il sottosegretario che abbiamo visto in visita ieri a Chieti. E poi era giro internazionale, vendita truffa della casa, soldi riciclati nei casinò, inquilini cedono ignari acquirenti, l'appartamento preso in affitto, sei arresti, assegni trasformati in fischi per conti gioco a Venezia e Nuova Gorizza. Vediamo l'operazione delle fiamme gialle nel servizio. Riciclaggio, autoriciclaggio, truffa, sostituzione di persona, falsità materiale, falsità ideologica e false attestazioni. Questi reati di cui devono rispondere dieci persone, di cui sei destinatari e di altrettante misure cautelari eseguite nelle ultime ore dai militari del nucleo, di polizia tributaria della sezione di polizia giudiziaria della guardia di finanza di Chieti. Gli arresti, tre in carcere, tre ai domiciliari, sono stati eseguiti nell'ambito dell'operazione denominata Fantomas. Dei dieci indagati, nove sono abruzzesi di Chieti, Pescara e Francavilla al mare. Avevano un'abilità straordinaria nel dissimulare attraverso la produzione dei documenti di identità a Fasulli la loro reale identità. Avevano una capacità organizzativa estremamente elevata perché ognuno di essi all'interno di questa consorteria criminale aveva un proprio specifico ruolo. Vi erano quelli che si occupavano delle finte transazioni immobiliari, ma vi erano anche quelli addetti a successiva attività di riciclaggio dei proventi così leggermente acquisiti. Sono in corso tuttora delle indagini anche in campo internazionale e stiamo inseguendo il flusso del denaro così leggermente acquisito per portarlo al sequestro e eventualmente alla confisca. Si siamo messi sulle loro tracce grazie ad una complessa attività che ha goduto dello straordinario attività di coordinamento della Procura della Repubblica di Chieti. In splendida sinergia siamo riusciti a soffrire di strumenti tecnici che ci hanno consentito di seguire passo passo questi delinquenti e poter così decidere di interrompere la loro attività nel momento in cui abbiamo compreso che stavano per colpire ancora. Mentre circa un anno che li stavamo seguendo e soprattutto abbiamo avuto difficoltà nella fase iniziale per cercare di individuare la loro reale identità e per questo abbiamo voluto chiamare l'operazione Phantomas in ricordo di quel mitico personaggio creato da scrittori francesi all'inizio dell'altro secolo. Adesso le notizie dal Terramano apriamo le pagine del Messaggero riaperta la strada di Bisenti riparte la viabilità post-sisma e l'apertura tira un sospiro di sollievo Scarpantonio ma abbiamo bisogno di ulteriori risorse sono stati spesi da via Milli oltre 22 milioni solo per il ripristino delle strutture danneggiate. In provincia l'inchiesta Castrum la Mastropietro ottene i domiciliari dopo 33 giorni di carcere la dirigente del comune di Giulianova starà a casa ma potrà portare un braccialetto elettronico la decisione è stata motivata dalla scadenza dei termini della carcerazione preventiva e dall'impossibilità di reiterazione del reato. Saltiamo sulla città per le altre notizie dalla provincia di Teramo e dal capoluogo altra violenza sulle donne tenta di strangolare la moglie è arrestato giovane madre maltrattata e picchiata davanti ai figli i carabinieri portano in carcere un 33enne albanese poi sangue lungo il corso denunciato l'aggressore che ha fracassato un pallet in testa all'ex fidanzata la politica il vento della politica soffia per Brucchi il centrodestra unito oggi vince dalle urne il monito per i dissidenti di maggioranza le prese con la sfiducia l'inferno assantatto vediamo intanto torniamo a vedere le immagini dell'incendio di ieri attorno alle 22 un incendio è divampato nel magazzino di oli vegetali dell'azienda alimentare una sessantina di dipendenti sono stati tratti in salvo un incidente gravissimo che poteva avere conseguenze tragiche la Richetti gestisce un ramo d'azienda dell'ex food invest produce generi alimentari attorno alle 22 è divampato l'incendio all'interno di un capannone usato come deposito di oli vegetali continuiamo con la lettura del giornale torniamo a Teramo la villa comunale in mano ai ratti giganti allarme sanitarie nel principale giardino cittadino che andrebbe chiuso per una derattizzazione urgente ancora avanti andiamo in provincia emergenza idrica primi disagi sulla costa un guasto ha lasciato a secco mezzo lido di Giulianova la cataglia le forniture ad Atri e Silvi intanto condizionatori frigoriferi a palla blackout elettrici a Cologna e Montesilvano per l'aumento dei consumi a causa del grande caldo una nuova cava nei pressi della necropoli a Campli il forum delle acque lancia l'allarme e chiede di formulare osservazioni per bloccarla ancora Martinsicure ora di voltare pagina il nuovo primo cittadino dedica la vittoria elettorale a Gianfilippo Vallese continuiamo con i giornali ma adesso apriamo la pagina dello sport andiamo e torniamo sul quotidiano il centro e apriamo la pagina dedicata al pescare al calciomercato pescare a Gans ore decisive tra oggi e domani la firma il presidente Sebastiani e il DS Leone a Milano per chiudere l'acquisto del bomber in programma anche un vertice con l'Inter Latte Latte e Capone intanto hanno firmato il ritiro del settore giovanile il primo test a rivisondo di sabato 15 luglio contro una rappresentativa locale andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport del messaggero recuperiamo rapidamente la pagina per andare a vedere che cosa scrive il messaggero Abruzzo per quanto riguarda il Pescara e dunque la Serie B in questo periodo di calcio mercato in cui ovviamente il calcio giocato è fermo ma sono tante le voci che riguardano gli acquisti del Pescara e anche le considerazioni sulla stagione passata e su quella che verrà il Pescara una ferita la marcorde di Gianni Simonelli ex tecnico del Pescara quella retrocessione il più grande dolore della mia vita fu colpa mia perché pensai che eravamo già salvi e perdemmo la capacità di lottare il mio futuro un sogno ce l'ho ancora dopo la gara decisiva ho pianto due giorni di seguito era una stagione che poteva cambiarmi la vita così l'ex tecnico delle Pescara e poi si ritenta l'assalto a Bastoni e Pessina per la caccia e rinforzi per la prossima stagione delle Pescara nel taglio basso bilancio e posto in lista ora servono le cessioni intanto arrivano oltre 4 milioni dall'Inter come plus valenza per la rivendita di Caprari proseguiamo sul messaggero la Lega Pro e il Teramo Caidi Teramo quest'anno serve la mentalità giusta andiamo a vedere anche sul centro il titolo che riguarda la Lega Pro e dunque il Teramo i biancorossi il Teramo spinge per il mediano Bruno duello per Ventola il DS Repetto pronto a fissare un incontro con il centrocampista vertice tra Campitelli e il Pescara campionato al Via il 27 di agosto proseguiamo con la pagina dello sport del centro serie D le trattative delle abruzzesi l'avezzano è scatenato la vastese blinda fiore i marsicani confermano Deramo puntano il bomber Gucci e stringono per Cassese e Bianciardi i biancorossi stanno per ufficializzare Menna e Stivaletta il nuovo corso dei frentani del grosso Lanciano è fatta domani la presentazione del nuovo allenatore del Lanciano e poi l'eccellenza Lucarelli lascia il paterno intanto Serraiocco conferma sono interessato a rilevare il Francavilla che potrebbe anche fare domanda di ripescaggio per la serie D dopo il playoff perso il calcio il calcio a 5 l'acqua e sapone vuole rinforzarsi Umberto e Bertoni nel mirino e poi il calcio a 5 femminile l'Italia under 17 vola grazie alla vianale andiamo a vedere anche le altre notizie sul sul messaggero dunque recuperiamo la pagina del messaggero calcio di serie D Marino Avezzano che colpo Branicchichi attesa la firma dell'ex Arzachena il tecnico è soddisfatto e poi il calcio a 5 Pescara non si ferma arriva anche Burato il laterale italo-brasiliano ritrova in Biancazzurro Colini che l'aveva già allenato nel Montesilvano campione d'Italia il giocatore lo scorso anno ha conquistato la promozione in serie A col Pesaro Fano il basket il mercato dell'amatori dipende da Pepe e poi il volley si è cortona altro colpo dal Verona arriva Zanini sempre il volley al trofeo delle regioni oggi debutta l'Abruzzo e poi per il calcio di eccellenza tra Luca Lelli e il Paterno un addio senza polemiche era questa l'ultima notizia della nostra rassegna stampa mattino 6 termina qui torna domani mattina alle ore 8 invece la nostra informazione oggi con il TG6 che dà appuntamento come di consueto alle 14 alle 19 e alle 23 grazie ancora vi auguro una buona giornata a Grazie a tutti Grazie a tutti